Quando accade una tragedia di quel tipo bisogna portare comunque l'assoluto rispetto e anche fare un passo indietro, pure quando hai la coscienza completamente a posto, come il caso nostro. Io voglio dire che in questi anni noi non abbiamo mai fatto mancare dialogo, ascolto e sostegno per tutte le tragedie che comunque sono accadute nella nostra città. Non sempre le interlocuzioni sono le medesime, io posso dire che anche con la famiglia Giordano non abbiamo fatto mancare dialogo, interlocuzione e altro. Tutto quello che noi facciamo, come sempre, è documentato punto per punto, virgola su virgola, ma non è nostra intenzione chiaramente nel rispondere, perché noi abbiamo il rispetto più assoluto quando una famiglia subisce una tragedia così enorme e quindi qualsiasi cosa dica la famiglia noi la digeriamo. Da questo punto di vista per noi è una questione chiusa. Poi se le persone vogliono continuare il dialogo con noi, le nostre porte sono sempre aperte, non siamo noi che le chiudiamo.